Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Caflé Espresso. I nostri ospiti oggi sono l'avvocato Andrea Pruiti Ciarello, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Einaudi, e l'avvocato Rocco Todero, componente del Comitato Tecnico Scientifico della stessa Fondazione Einaudi. Grazie Andrea, grazie Rocco per aver accettato di fare questa puntata della Caflé Espresso. Grazie a te. Allora, cominciamo da Rocco. Rocco, perdonerete il tu confidenziale, visto che siamo tra componenti della Fondazione Einaudi, tra amici, però abbiamo ritenuto necessario fare questa puntata per spiegare le ragioni di una ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per la legge che ha imposto l'obbligo vaccinale al personale sanitario. Rocco Todero, vuoi spiegarci meglio di cosa si tratta? Non ascoltiamo purtroppo, c'è il microfono staccato. Buonasera a tutti, si tratta di un'ordinanza con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che è l'equivalente di una sezione del Consiglio di Stato, ha sollevato dei dubbi sulla legittimità costituzionale della legge che ha imposto l'obbligo vaccinale, in modo particolare per il personale sanitario. Diciamo subito che ne discutiamo e ne parliamo con un tono assolutamente neutro, cioè non c'è né trionfalismo da parte nostra né particolare scetticismo, però è importante che dopo molto tempo, dopo molti mesi, alcuni dubbi vengano portati correttamente davanti alla Corte Costituzionale. Diciamo subito ai nostri ascoltatori che non si tratta dell'unica ordinanza che ha rimesso le questioni alla Corte Costituzionale, ma si tratta di quella però più ampia e che pone problemi molto vasti. Sinteticamente cosa era accaduto? Un giovane tirocinante dell'Università di Palermo era stato escluso dalla possibilità di fare il tirocinio proprio perché non vaccinato. aveva impugnato questo provvedimento e aveva contestato l'obbligo vaccinale sulla base di una serie di considerazioni, le quali, quelle più importanti, erano state rappresentate in una consulenza tecnica di parte, molto importante, in questo giudizio, che aveva messo in dubbio l'efficacia del vaccino. Sotto diversi, perché avrebbe prodotto degli effetti, produrrebbe degli effetti collaterali in una misura eccessiva rispetto agli altri vaccini che ci sono in circolazione e due, perché il vaccino non fermerebbe il contagio. Questi due criteri sarebbero, diciamo, contrari all'insegnamento della Corte Costituzionale che con numerose sentenze invece ha detto che una norma di legge può imporre il vaccino in nome del principio della solidarietà, della tutela della salute, quale bene pubblico, solo se non produce effetti collaterali, effetti negativi, eccessivi, sproporzionati, e se vale anche a tutelare il soggetto terzo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha fatto una riflessione molto approfondita dicendo sostanzialmente questo. Guardate, siamo in una fase in cui forse alcune considerazioni che erano state fatte fino a questo momento devono essere ripensate alla luce delle nuove varianti del virus Covid e ha chiesto un chiarimento all'Istituto Superiore di Sanità. Ha interrogato sostanzialmente l'Istituto Superiore di Sanità, ha voluto sapere qual è lo stato attuale della pandemia, ha voluto cercare di capire, ad esempio, dall'Istituto Superiore di Sanità qual è stata l'efficacia reale dei vaccini sia sotto il profilo del contagio sia sotto il profilo della riduzione degli effetti negativi, pesanti, che il Covid ha portato su molti cittadini, comprese l'eventuale riduzione delle ospedalizzazioni. Ha voluto sapere, il CGA, ancora, quali sono i meccanismi attuali per il controllo, della cosiddetta farmacovigilanza o farmacosorveglianza, ci ha voluto sapere qual è la procedura che si sta adottando e quali sono gli enti che si stanno occupando di registrare le segnalazioni degli eventuali effetti avversi. A conclusione di tutto questo ragionamento, dopo aver quindi chiesto all'Istituto Superiore di Sanità questa relazione ed aver interrogato personalmente di presenza durante lo svolgimento della Camera di Consiglio e i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio di Giustizia Amministrativa è pervenuto alla conclusione di dover investire la Corte Costituzionale su tre aspetti. Se vuoi te li dico subito o magari intercaliamo in qualche altro... Intercaliamo, assolutamente. Andrea Pruiti-Gerello, questa ordinanza comprende tutti gli aspetti di costituzionalità delle norme sull'obbligo vaccinale? No, questa ordinanza non prevede tutti gli aspetti che sono stati richiesti e ne tratta solo alcuni e appunto ne devolve solo altri alla Corte Costituzionale. In particolare uno meritava, a mio avviso, di essere maggiormente approfondito e forse anche sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale. Sappiamo che diciamo la Corte Costituzionale ha una giurisprudenza molto solida in tema di costituzionalità delle leggi che impongono l'obbligo vaccinale in tema di compatibilità con l'articolo 32 della Costituzione, quindi con la salvaguardia del diritto alla salute. Quella cardine è la 5 del 2018 che prevede tre diverse diciamo caratteristiche che devono essere tutte soddisfatte per poter essere rispettato il baglio di costituzionalità della norma che impone l'obbligo. Queste tre caratteristiche sono essenzialmente che il trattamento si è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute del singolo individuo che si sottopone alla vaccinazione ma anche i terzi che quindi da quella vaccinazione del singolo i terzi abbiano benefici in quanto la malattia non venga propagata ulteriormente. Questo è soltanto il primo diciamo dei parametri che questa sentenza 5 del 2018 della Corte Costituzionale impone poi gli altri magari li approfondirà il collega Totoro però questo qui questo parametro il CGA diciamo lo ritiene comunque soddisfatto dall'attuale normativa in tema di imposizione di obbligo vaccinale ai sanitari però non in maniera diretta diciamo fa tutto un ragionamento che merita di essere un po' spiegato nel dettaglio che francamente non mi trova completamente d'accordo il CGA che cosa dice dice che i terzi beneficerebbero della vaccinazione imposta come obbligatoria per la malattia covid non in via diretta in quanto garantirebbe la copertura vaccinale quindi di immunità generale che blocca la propagazione della malattia ma indirettamente quindi il vaccino covid secondo anti covid secondo questa diciamo secondo le relazioni che sono state poste al baglio della corte con l'istruttoria che è stata condotta non hanno la capacità di impedire la propagazione del virus ma hanno la capacità di diciamo contenere l'evolversi alla malattia e quindi non intasare i reparti diciamo di terapia intensiva degli ospedali è proprio questo che la corte ritiene essere parametro adeguato per garantire i terzi rispetto alla vaccinazione quindi viene interpretato in senso estensivo non più come capacità del farmaco di impedire la trasmissione della malattia ma riducendo molto l'aggravio della ospedalizzazione garantirebbe ai soggetti terzi un beneficio che è quello di avere qualche ospedale qualche posto letto libero in più rispetto a se non ci fosse la vaccinazione obbligatoria ecco questo parametro in termini tecnici in termini giuridici non mi convince molto perché è legato a una condizione esogena rispetto al vaccino è legato a una condizione esogena rispetto alla singola vaccinazione dell'individuo perché è legato sostanzialmente a che cosa alla capacità del sistema sanitario nazionale di avere un certo numero di posti letto che siano adeguati a sostenere le emergenze sanitari mettiamo che oggi ci siano dico un numero a caso per far capire il ragionamento mettiamo che oggi ci siano mille posti letto di terapia intensiva potrebbero non essere adeguati con la vaccinazione con questo tipo di vaccinazione o con un'altra futura potrebbero essere invece adeguate quindi soddisfare questo criterio secondo questa interpretazione del CGA ma ad esempio se il ministero della salute decidesse di ridurre il numero di posti letto da mille a cinquecento questa condizione amministrativa esterna inciderebbe negativamente su futuri obblighi vaccinali che potrebbero se il ragionamento seguito dal CGA della Sicilia fosse esteso diciamo e fosse ritenuto poi effettivamente valido sotto il profilo della costituzionalità della norma ridurrebbero ulteriormente la libertà dei cittadini verso la vaccinazione che potrebbe divenire obbligatoria non perché diciamo rappresenti un aggravio particolare un rischio per la salute dei terzi ma perché essendo inadeguata la risposta del sistema sanitario nazionale a quel punto viene ristretto il range di operatività delle cure ospedaliere e quindi diventa poi diciamo necessario intervenire a monte con una vaccinazione profilattica che magari potrebbe non essere necessaria se il sistema sanitario nazionale avesse adeguato per tempo quindi la considerazione a questo punto diventa diciamo tecnica ma anche politica quindi il governo se non interviene adeguatamente per sostenere il sistema sanitario nazionale incide negativamente sui diritti alla salute dei cittadini ma anche sui diritti di libertà connessi alla possibilità al diritto di non vaccinarsi o al diritto di non essere chiamati in causa per una vaccinazione obbligatoria è un discorso mi rendo conto un po' complesso spero di averlo spiegato bene ma in sintesi ritengo che su questo punto il CGA ha ritenuto diciamo soddisfatto questo primo parametro di questa sentenza 5 del 2018 della Corte Costituzionale a mio avviso questo ragionamento diciamo è un po' viziato e andava invece sottoposto anche questo alla Corte Costituzionale perché ritengo che meritava un approfondimento di Costituzionalità Rocco vuoi completare il discorso che avevi interrotto? Sì questo che ha detto Andrea è diciamo il ragionamento per cui questa parte della legge non è andata alla Corte Costituzionale in sostanza rispetto all'insegnamento tradizionale della Corte Costituzionale il CGA dice si può imporre l'obbligo del vaccino non solo quando si deve tutelare direttamente il terzo cioè per evitare che lo si infetti o lo si contagi con il virus ma addirittura e questo è il punto che Andrea ha sottolineato e che è importantissimo addirittura a questo punto lo si può imporre anche per tutelarlo in maniera indiretta cioè anche quando non lo si protegge in realtà in maniera diretta ma lo si protegge non intasando il posto in ospedale e questo è veramente secondo me qualcosa di molto importante e di negativo perché dovrebbe essere posto all'attenzione della Corte ma adesso concentriamoci su quali sono stati invece i dubbi di costituzionalità il più grave il più importante quello che sul quale bisogna riflettere senza prendere sotto gamba questa decisione del CGA è che il collegio ha visionato il report ufficiali dell'AIFA e di tutte le altre autorità e quelli che gli sono stati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità e ha constatato che gli effetti avversi del vaccino medi gravi e infausti con le morti sono in un numero notevolmente superiore dice proprio così l'ordinanza e riporta i dati a tutti gli effetti avversi che si sono registrati con le vaccinazioni fino adesso rese obbligatorie per legge vuol dire dice il CGA che questo vaccino non può considerarsi sicuro sotto questo profilo almeno allo stato attuale perché sta producendo effetti avversi in un numero eccessivo il ragionamento del CGA è importantissimo perché dice guardate la Corte Costituzionale dice ma lo dice anche un principio di moralità se mi consenti e di umanità che il vaccino l'obbligatorietà del vaccino è legittima non quando il rapporto costi benefici si fa in maniera quantitativa cioè noi introduciamo un vaccino e diciamo che su 100 persone sul 99 non produce effetti ma uno muore perché se così fosse dice il CGA staremmo violando la vita individuale perché non possiamo noi imporre il vaccino anche se una sola persona muore su 99 perché non possiamo scegliere di sacrificare una vita per la salvaguardia delle altre 99 perché la vita è incommensurabile di per sé e l'ordinamento non può scegliere di buttare i dati e decidere che su tre vaccino todero e pruiti si salvano e vabbè pazienza rago muore tanto siamo due con uno ma la valutazione che va fatta invece è sul rapporto costi benefici su ciascuno di noi ebbene siccome i dati fino adesso fino adesso pubblicati dicono che sono in sorte delle patologie gravi le miocardite altri tipi di patologie ripeto in un numero eccessivo per il cga questo vaccino non si può imporre attenzione per essere chiari non siamo no vax non siamo antivaccinisti ognuno di noi può fare il vaccino se ha le sue se ci crede se ha le sue condizioni si sta parlando se imporlo al costo di limitare delle libertà fondamentali quali sono per esempio il diritto al lavoro il cga dice anche scusateci voi la legge impone un vaccino a queste condizioni con questi numeri ufficiali sarebbe anche opportuno coinvolgere i medici di base in una valutazione preventiva delle condizioni di salute di ciascuno di noi fare degli esami clinici per stabilire se ogni singolo soggetto ha più rischio o meno rischio a sottoporsi al vaccino tutto questo in questa legge manca perché l'obbligo è diffuso il cosiddetto di massa e in una bellissima frase il cga dice la vaccinazione di massa non può sacrificare la vita individuale di nessuno perché l'autorità non può ripeto gettare i dati e stabilire che 99 si salvano e uno muore perché non è questa la logica costituzionale della obbligatorietà del vaccino il vaccino può essere obbligatorio quando gli effetti negativi sono sopportabili ma da tutti oggi ci sono dati secondo il cga che correlano eventi avversi e morti al vaccino stesso e quindi non può essere imposto in maniera obbligatoria gli altri due aspetti importanti che ha messo in evidenza il cga sono che non c'è una farmaco vigilanza adeguata secondo la confusione la raccolta dei dati non avviene in maniera scientifica e puntuale come dicevo non è prevista la possibilità o meglio l'obbligo di vaccinazione e poi la chicca che ha voluto mettere il cga che è una chicca di natura logico formale sul consenso informato come tu sai vengono fatti firmare i moduli sul consenso informato il cga dice scusate il consenso informato ha ragione di esistere quando la vaccinazione è facoltativa cioè tu decidi in autonomia di sottoporti alla vaccinazione allora a quel punto l'autorità ti deve dire attenzione ti stai sottoponendo alla vaccinazione guarda che ci sono tutti questi rischi e devi sapere tutto questo ma quando la vaccinazione in sostanza è obbligatoria dice il cga perché se tu non ti vaccini non mangi alias non lavori la vaccinazione è obbligatoria e quindi in questo caso il consenso informato il senso del cga è proprio questo è una presa in giro cioè che consenso informato stai dando a un soggetto che è obbligato a vaccinarsi è un'ordinanza molto importante per concludere e non è la sola ce ne sono altre che hanno mandato la questione alla corte costituzionale con riguardo ad esempio al un cattivo bilanciamento questo lo dice in realtà anche il cga a un cattivo bilanciamento tra i diritti si sarebbe data si sarebbe dato troppo peso nella bilancia della giustizia alla tutela della salute pubblica e troppo poca importanza ai diritti individuali l'eliminazione radicale del per esempio dello stipendio per i dipendenti pubblici sarebbe una compressione troppo forte del diritto del diritto fondamentale alcuni tribunali infatti hanno ripristinato l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di corrispondere almeno il 50% dello stipendio e concludo dicendo questo è un'ordinanza importante non diciamo non c'è ragione di essere né entusiasti né pessimisti però siccome i tribunali grazie a Dio stanno a riparo dalle ventate nefaste dell'opinione pubblica e di tutte le sciocchezze un po' che si dicono in molte sedi con un ragionamento appropriato sono state sollevati dei dubbi e poi vedremo cosa deciderà la corte costituzionale però è importante che si discuta di questi aspetti perché l'autorità politica e l'autorità statale ha come dire adottato dei provvedimenti forse troppo radicali magari giustificati emotivamente dall'urgenza e dall'emergenza ma che all'esame della razionalità e della salività appaiono ancora oggi molto radicali Andrea Pruiti a suo giudizio questa ordinanza riposiziona il nostro ordinamento nell'alveo dello Stato di diritto? Ma questa naturalmente è una considerazione soggettiva ciascuno ha le proprie sensibilità e è legittimo pensarla in un modo ma anche pensarla in maniera opposta personalmente sono fiducioso sono contento e soddisfatto che vi siano tribunali il CGA in questo caso ma vi sono altri tribunali come ha appena accennato il collega Rocco che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionali riguardanti norme diciamo emergenziali in tema di covid di contrasto al covid e questo chiaramente fa ben sperare perché significa che la giurisdizione sta facendo il suo lavoro i giuristi la comunità dei giuristi sta lavorando affinché l'ordinamento ritorni ad avere norme che siano coerenti compatibili con la costituzione e soprattutto che salvaguardino i diritti individuali aspettiamo vediamo che cosa dirà la corte costituzionale l'ordinanza mi sembra ben strutturata ben motivata e quanto solleva mi sembra anche difficilmente superabile francamente quindi sono fiducioso che un intervento diciamo che riporti censorio nei confronti delle norme la corte costituzionale in qualche modo lo farà sul riportare la condizione allo stato di diritto devo dire che no io non ritengo che attualmente si possa essere sereni e contenti della situazione nella quale ci troviamo perché tante tante cose tante cose tra cui per esempio le varie imposizioni di obblighi vaccinali sono stati fatti con decreto legge il decreto legge è un decreto è un istituto che è utilizzabile solo in casi di urgenza e soprattutto non deve essere diciamo non deve prevedere delle delle cose definitive nel senso che deve salvaguardare anche la possibilità che non venga convertita in legge questa cosa se da un sotto un profilo puramente positivistico del diritto rientra nell'alveo della costituzionalità perché equivale a una a una legge ordinaria e quindi di rango primario sotto un profilo diciamo un po' più approfondito di analisi secondo me è incoerente rispetto all'ordinamento costituzionale perché diciamo pone nelle mani dell'esecutivo l'esercizio di un potere che è francamente appannaggio esclusivo del Parlamento nello schema configurato dalla nostra costituzione che poi il Parlamento oggi per le vicissitudini politiche e storiche che conosciamo tutti sia diciamo molto molto depotenziato ricordiamo che questo è il Parlamento che si è autocastrato riducendo il numero dei parlamentari questo è il Parlamento che durante la pandemia addirittura aveva pensato di non riunirsi durante le fasi iniziali della emergenza covid nel 2020 diciamo questo è un Parlamento certamente particolare e inadeguato rispetto allo scopo che diciamo la Costituzione gli garantisce ma sicuramente inadeguato rispetto all'emergenza che stiamo vivendo quindi sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda questa ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ma sullo Stato di diritto ci andrei ancora cauto ritengo che ci sia ancora molto altro da fare per ritornare sui binari diciamo antecedenti al 2020 Rocco vogliamo chiudere questa nostra conversazione immaginando quale potrebbe essere l'esito finale di questa vicenda davanti alla Corte ma questo è veramente difficile non è non è facile perché la Corte Costituzionale effetto un giudizio che non è solo giuridico ma è latamente anche politico quindi è imprevedibile io temo che si pensi più si penserà più agli effetti devastanti di un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale cioè noi immaginiamoci cosa potrebbe significare una sentenza di incostituzionalità io credo che la questione potrà essere rigettata ma ci saranno dei moniti ci saranno dei ragionamenti che daranno in parte ragione al CGA ma secondo me non si arriverà per ragioni culturali per ragioni di termometro dell'opinione pubblica non si arriverà secondo me alla dichiarazione di incostituzionalità però è bene che questa che la Corte Costituzionale se ne occupi e con l'occasione dico anche che quello che sta accadendo dimostra che una delle proposte che aveva fatto la Fondazione Inaudi che aveva fatto anche io ed Andrea è quella di andare direttamente alla Corte Costituzionale quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali senza aspettare come è previsto adesso dalla legge che se ne convinca un giudice è una riforma importantissima perché abbiamo dovuto aspettare centinaia di ricorsi tutti uguali su questo aspetto 99 giudici non si sono convinti un solo giudice il CGA per quanto riguarda la giustizia amministrativa e questi aspetti sollevati in questa ordinanza si è convinta e solo grazie a questo stiamo andando davanti alla Corte Costituzionale ci saremmo potuti andare molto prima se l'ordinamento ci consentisse l'accesso diretto da parte dei cittadini alla Corte senza passare prima dal vaglio della della magistratura è una questione che avevamo posto se ben ricordate e credo che bisognerà tornare su questo argomento soprattutto tutte le volte che c'è una dichiarazione di Stato di emergenza Bene grazie Andrea Pruiti Ciarello grazie Rocco Todero per questa conversazione penso che sia opportuno a questo punto darci appuntamento quando ci sarà la sentenza della Corte per tornare ad approfondire e a commentare questa ordinanza grazie a tutti voi che ci avete seguito vi auguro una buona serata e appuntamento alla prossima puntata della Caffè Espresso o del mercoledì grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti